benvenute allora oggi cercherò di non sciogliermi durante questo video ma non ve lo posso garantire comunque sfogliamo insieme l'album numero 10 del livro shake valido fino al 22 agosto del 2018 vediamo che ci sono tante offerte intanto ci sono i set per le tensioni del viso poi ci sono anche le promozioni due smalti a 5 euro e la promozione più interessante è anche due bagno doccia confezione grande quindi quella a 400 ml a 6 euro e 95 poi ci sono altre offerte che comunque vedremo nel video ed iniziamo a sfogliarlo allora eccoci e direi di iniziare dunque questo è il sommario vediamo intanto che c'è un'anteprima dell'album 11 lo shampoo micellare detox che si può avere la confezione da 50 ml per provarlo ogni 15 euro d'acquisto dei prodotti viso che adesso vi mostro poi iniziamo con i prodotti viso perché ci sono tante offerte soprattutto per quanto riguarda la depressione il primo set è quello qui gel detergente ultra freschezza più il tonico idratante a 12,95 della linea idro vegetale sono della linea sebo vegetale è quella qui e gel detergente purificante più l'acqua nicolare purificante a 14,95 sensitive vegetale latte detergente initivo acqua nicolare initiva 2 in 1 a 14,95 continuiamo con le altre linee quindi la serum vegetale il set di detersione anti-tamp con latte detergente levigante la lozione tonica perfezionatrice a 9,95 ecco qui altra linea eccoci qua gli essenziali per la pelle set di detersione anti-tamp con la crema detergente ultra nutriente e la lozione tonica perfezionatrice a 12,95 poi set di detersione detox detergente sfogliante quotidiano più l'acqua micolare detergente a 12,95 e fino a questa pagina si può avere ogni 15 euro la confezione di shampoo da provare vediamo ora la promozione degli smalti perché 2 smalti e 5 euro tutti i colori che volete tutti quelli colorati il primo col codice nero secondo col codice rosso come sempre sono tantissimi colori fino a qui vediamo la novità perché hanno rifatto la linea eccola qui la chiamano novità comunque hanno rifacimento ed è migliorata lo shampoo riflessi quindi riflessi d'argento e riflessi dorati i riflessi d'argento va a rendere più brillanti i capelli platino grigi oppure bianchi e neutralizza il riflesso giallastro mentre quello per i riflessi dorati eccolo qui il rumine riflessi dorati dei capelli chiari quelli più chiari e l'avevo provato l'altra volta e so che funziona veniamo ora all'ultima promozione e sono due bagno doccia a scelta a 6,95 euro considerate che sono quelli grossi da 400 ml quindi verrebbero 3,95 euro l'uno allora tutti i profumi le profumazioni le potete scegliere voi il primo col codice nero il secondo col codice rosso come sempre tra tutte quelle disponibili e questo era tutto l'album abbiamo sfogliato tutto il catalogo come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarvi per le informazioni e per gli ordini c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo con calma sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti con il ventilatore e buoni acquisti attualmente perfumati con il magico attore al mondo di brush con il nostro canale